I cinque ospedali di comunità della provincia di Foggia saranno nuovamente operativi, lo annuncia il direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla a conclusione di una serie di incontri e tavoli di lavoro in cui sono state affrontate tutte le questioni relative alla riapertura in sicurezza delle sedi. Si tratta di una tipologia di assistenza che rientra nella rete dei servizi territoriali e che viene considerata un domicilio allargato. In provincia di Foggia gli ospedali di comunità sono dislocati nei comuni di Vico del Gargano, Vieste, San Nicandro Garganico, Panni e Torre Maggiore. Espletate le procedure per il reclutamento di infermieri e operatori sociosanitari riapriranno immediatamente le strutture di Panni e San Nicandro Garganico, risultati al momento maggiormente aderenti agli standard regionali. Subito dopo saranno aperte anche le altre sedi di Vico del Gargano, Vieste, Torre Maggiore, appena ultimati gli interventi necessari.